Alessio Giglio, un noto campione delle due ruote, era ammirato da molti nella città di Gubbio. I suoi amici lo ricordano come un ragazzo solare, con una passione innata per le motociclette. Purtroppo il destino ha portato via la vita a questo giovane di 25 anni in un tragico incidente stradale, avvenuto poco dopo la mezzanotte di sabato 27 maggio alle porte di Gubbio a San Marco. Mentre stava tornando a casa al volante della sua auto, Alessio ha perso il controllo del veicolo per motivi ancora da accertare. Il mezzo ha sfondato il guardrail e alla fine è precipitato da un cavalcavia lungo la strada statale 219 Pian D'Assino. La comunità di Gubbio è profondamente colpita dalla perdita di questo giovane talento sportivo appassionato delle due ruote. Alessio, che avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 24 settembre, era un campione di pit bike e aveva ottenuto importanti risultati nel campionato italiano. Grazie per la visione!